eccoci in un giorno che ha forza particolare speriamo di riuscire a prenderla questa forza siamo ancora siamo a fine ma ancora con tutta l'influenza non l'influenza che ho io ma l'influenza che ha il capomese di Kislev e se nel capomese c'è dentro tutto il potenziale di tutto quello che sarà il mese e se questo mese ormai noi lo chiamiamo mese dei miracoli non solo con Hanukkah ma i Yotekislev tutto quello che porta ma addirittura proprio nel nel primo del mese da una certa data in poi è diventato e che lo sia anche per me il giorno della guarigione in quanto in un determinato anno il Rebbe si è festeggiato il Rebbe che è guarito dopo che dopo un attacco di cuore non indifferente che l'ha costretto nella sua stanza per alcuni mesi quando i Hassidim ormai non riuscirono più a vederlo da tanto il Rebbe finalmente uscito ha parlato a tutti i Hassidim è stato un momento di estrema gioia per tutti e come ogni cosa che avviene in una certa data quella data prende l'influenza e la potenza del fatto accaduto soprattutto quando riguarda il Nassia Dori il leader della generazione che contiene in sé ognuno di noi per cui che questo sia un giorno favorevole di guarigione assolutamente per ognuno di noi sapendo anche quanto tanti purtroppo dei Amisraeli in questo momento hanno bisogno di guarigione oltre al bisogno di liberazione e di insomma di redenzione per tutti e questo è questo è quello che dobbiamo ora pregare insistere volere con tutte le nostre forze iniziamo comunque con il nostro solito Yom Yom aspetta che lo recupero e oltre a quello di oggi vi rileggo anche quello di domenica che l'avevo trovato quando trovo qualcosa che in fondo è un po' di d'ispirazione di forza sempre ho desiderio di condividere quello di oggi dice vi furono periodi in cui Rav Yekutiel Lipler un chassid dell'atmorza Ken pregava Shacharit Minha e Mariv uno di seguito all'altro non vi era tempo per degli intervalli qui forse aggiungo una nota che in passato avevo anche già raccontato che l'uso in particolare per i OBS momento che poi sono aspetta mi scrivo povero figlio aspetta fatemi iscrivere a mio figlio e poi silenzio sono in mezzo a una lezione non ti risponderò spero non sia niente di urgente e silenzio il tutto ciao figlio ok silenzio il telefono ovviamente che non sia niente di urgente allora una piccola nota è uso in tante comunità ma in particolare per il suo chassidime per alcuni dei dei Rebbeim l'uso di pregare come si dice in ebraico Berichut prendendosi tutto il tempo nonostante il tempo della preparazione prima che può essere molto lungo perché per presentarsi ad Akadosh Baruch Hu incontrarlo veramente unirsi a lui veramente se uno passa dalle cose quotidiane del giorno e pluf si mette lì apre il sidur e comincia a pregare ci sono molte probabilità che continui nelle sue cose di tutti i giorni mentre sta pregando e non è che abbia molto presente a chi sta parlando e abbia molto più presente cosa dovrà fare subito dopo cosa è rimasto indietro nella lista delle commissioni tutti noi come diciamo questo mentre oltre alla preparazione c'è appunto chi ha l'uso di di andare avanti nella tfilà con calma con intenzione in ogni parola per più una tfilà una preghiera che per una persona normale prende mezz'ora tre quarti d'ora un'ora a dire tanto c'è chi appunto può prendere ore e ore e in una discussione che c'era strata fra tutti questi due metodi c'è anche un metodo contrapposto di persone molto molto si religiose che però anzi hanno l'abitudine di pregare estremamente in fretta velocemente e in una discussione fra i due quello che pregava in fretta spiegava che la fretta la velocità della preghiera era per non permettere allo Iesser di saltare dentro come se fosse in una carrozza dove fai andare i cavalli più in fretta possibile per impedire allo Iesser di saltare dentro la carrozza e l'altro replica dicendo questo è un sistema ottimo eccezionale finché lo Iesser sta fuori ma se è già saltato dentro cosa corri a farvi è sempre ritenuto carino questo esempio in cui gli sforzi che richiedono la nostra preghiera per essere efficiente efficace cosa che se vi ricordate la stella prossima ne abbiamo una stella scorsa scusatemi oggi ne abbiamo parlato della forza della preghiera però perché abbia questa forza deve richiedere preparazione deve richiedere il desiderio di entrarci dentro di prenderla in un altro modo eccetera eccetera cosa che non ci è facile ma forse è un lavoro che vale la pena intraprendere più seriamente e ho detto che avrei letto un altro Iomion quello che c'era domenica che diceva il concetto di divina provvidenza consiste in ciò non solo ogni particolare movimento delle varie creature è diretto dalla divina provvidenza e non solo la divina provvidenza è essa stessa la forza vitale che mantiene in esistenza tutte le creature ma e ancora di più il particolare movimento di ogni creatura è in termini generali correlato al grande disegno della creazione l'insieme di tutti gli atti individuali porta il completamento del grande disegno divino nel mistero di tutta la creazione ogni cosa che faccio ogni piccolo movimento non soltanto è accompagnato da Dio in questo momento che è con me e che sorveglia e guida eccetera ma anche viene a essere un tassello nel progetto generale della creazione che ha un suo fine pensa un po' e qui ti invita dice medita su ciò se l'ondeggiare di un filo d'erba scusate è determinato dalla divina provvidenza ed è cruciale per il completamento dello scopo della creazione quanto più ancora riguardo l'umanità in generale è Israele il popolo a lui vicino in particolare queste sono quelle iniezioni di di responsabilità che ci viene ricordata quanto ogni nostro gesto tutto veramente è determinante è importante ed è considerato da Kadashu ora cerchiamo di entrare nella parashama restando collegati ancora non posso farne a meno e forse è giusto così collegato ancora al tempo che stiamo vivendo e ci ricordiamo che oggi ci troviamo davanti a un nemico un nemico che va solamente completamente distrutto non c'è con chi parlare è chiaro ormai comincia a diventare chiaro abbastanza a tutti è un nemico che ha svolto la sua funzione che è stata quella di ricordarci chi siamo che ci ha portato a riscoprire l'unione profonda ed essenziale che ci lega unione che è molto più forte reale di qualsiasi differenza esteriore che vorrebbe dividerci che ci ha portato a sentire la nostra completa unione con Dio e la nostra fiducia abitajoni in Lui o almeno nel bisogno di collegarci all'abitajoni e teniamo presente che ed è meraviglioso vederlo sempre di più che proprio con questo spirito che oggi i nostri soldati escono in battaglia e mentre escono in battaglia e mentre sono lì sentono i fili che li collegano a noi che li sosteniamo nelle retrovie con le nostre preghiere con i salmi che leggiamo con le nostre buone azioni che raggiungono spesso livelli impensabili e sorprendenti di aiuto reciproco pieno di creatività e di intraprendenza uno dei gruppi ai quali mi sono sono collegata un gruppo che comprende sulle 500 persone donne che ha giunto oltre a l'impegno ognuna di leggere ogni giorno per la liberazione degli ostaggi per la per la riuscita di tutto per tutto quello che stiamo vivendo di leggere un salmo e a seconda del numero del salmo che salta fuori in un'applicazione che uno gira molto un'applicazione penso che tutti conoscono in cui ti viene proposto il e viene proposto il salmo cioè lì già a tua disposizione lo leggi e dopo segni sotto che l'hai letto così vengono completati libri libri di teilim però la cosa interessante è che il numero dei salmi dei teilim è 150 come tutti sanno ma anche il numero di pagine del libro del Tania della prima parte del libro del Tania di Cotea Marim è di 150 pagine e viene spiegato anche l'importanza la forza che ha il ripetere semplicemente il dire il leggere il Tania l'influenza eccezionale che ha di salvezza di cose positive per cui ognuna prende su di sé anche di leggere un salmo e il numero che è capitato il corrispondente la corrispondente pagina sul sul libro del Tania è cosa che io sono stata molto in dubbio se fare perché per me per una persona che normalmente usa l'ebraico leggere qual è il problema leggere una pagina ma per me che leggere l'ebraico ancora richiede uno sforzo notevole e se prendete in mano la versione ebraica originale del Tania le raccette vot come si dice le raccette vot ci sono le abbreviazioni di lettere che vogliono dire qualcos'altro è pieno per cui ogni due righe andare a cercare in fondo c'è tutta la lista delle raccette vot perché andare a vedere cosa sto dicendo non è non è semplice ma la cosa bellissima faccio un esempio è dopo che c'è stato un un appello credo che si dica acronomo acronomo ok dopo che acronimo forse acronomo è bello vederti fare la spesa magari la fai anche per me so anche dove sei a tal piot ok aspetta distrarmi non è il massimo oggi fammi tornare indietro ah sì dopo che c'è stato un appello dei soldati in cui un soldato in particolare che si è espresso dicendo guardate che le nostre battaglie si svolgono essenzialmente di notte e per noi è molto sentiamo molto se c'è dietro le retrovie sono attive perché si vede che proprio questa influenza gli arriva qualcosa che è incredibile per cui proprio la preghiera è stata anche di notte cioè c'è bisogno del turno di notte e quindi è stato aggiunto anche il turno di notte per cui dalle 11 alle 5 del mattino c'è un'altra lista dove si entra e si completa altro libro di Tailim e del Tania e già due sere sono riuscita a entrare anche in questo ed è una sensazione che dà forza senz'altro a loro ma dà forza a ognuno di quelli che la prendono su di sé perché ti senti veramente con fili che che ti uniscono come si chiama l'applicazione te ne mando te ne mando una per esempio così ci entri se vuoi ti faccio anche entrare nella in quella come si dice in questo gruppo però è un gruppo ciao finalmente wow però è un gruppo dove se uno si prende la responsabilità poi deve continuare ok stavamo dicendo tutto questo e quindi siamo tutti Baruch Hashem in movimento anche se ogni tanto come dicevo la stessa scorsa la forza di gravità della parte del male ha ancora parecchia presa per cui la tendenza a tornare giù si fa sentire spesso volentieri quindi riarmarsi e sentire la novità che ci ha risvegliato ogni giorno di ravvivarla non è semplice però quando ci poniamo davanti appunto all'idea del nemico capiamo anche che più noi conosciamo il nemico e differenziamo anche i nemici capiamo qual è quello che quello che ci riguarda più da vicino quello che noi stessi dobbiamo combattere più ci armiamo nel modo corretto e ci muoviamo nel modo corretto e se adesso ci siamo a che fare essenzialmente con Ishmael però la nostra parasha ci ricorda che abbiamo anche un altro nemico che di fatto è molto più vicino a noi e che dobbiamo veramente comprendere meglio la Torah ci insegna che Ishmael con tutta la sua malvagità alla fine della sua vita cosa è successo si è pentito lui si è pentito non i suoi discendenti evidentemente ma non si parla di un pentimento come un ebreo che torna a Bechuvah questo è un pentimento che non ha fatto di lui una persona diversa lo ha solo elevato a una migliore comprensione di cosa è giusto pur restandone a sua essenza lo stesso Ishmael un attimo nella nostra parasha invece noi incontriamo un altro personaggio problematico dal nome Esav mi sono ispirata molto a lui per la locandina di questa settimana tutta rossa come Esav era rosso tutto sangue tutto temperamento sappiamo della malvagità di Esav e potremmo essere portati a paragonarlo a Ishmael a vedere i punti comuni come Ishmael fu figlio di Avram Avinu il primo ebreo un giusto completo che lo amava così Esav era figlio di Tzakavino il primo ebreo circonciso a otto giorni nato poi da un matrimonio completamente ebraico olocausto senza macchia era stato portato alla chedata Ishaq il padre di Esav quindi giusto completo e anche Ishaq dimostrava di amare Esav ora vediamo Ishmael uno può dire sì ma Ishmael era nato da una serva Agar non da Sarà ma non è questo che spiega la sua malvagità poiché anche figli di Iacov sono stati sono nati da serve eppure sono rimasti dei giusti la verità è che fra i due non vi è alcuna vera sostanziale somiglianza e proprio le nostre madri lo hanno rivelato perché si sono comportati in modo diverso con i due vediamo un attimo Sarai meno di cui se ci ricordiamo bene Kadash ha detto di ascoltare bene le sue parole di fare quello che Sarà dice ha messo bene in chiaro che Ishmael non aveva niente a che fare con il popolo ebraico destinato a discendere unicamente da suo figlio Yitzhak è così che Avram dovete scacciare Ishmael pur amandolo Rifkah abbiamo fatto caso non ha mai parlato male di Asav e non ha mai chiesto non è andata da Ishaq a dire senti questo figlio ne fa di tutti i colori si occupa di Avodazara di Lodolatria sappiamo che Ishaq stesso c'è la versione che dice che ha perso la vista a causa dell'incenso delle mogli di Ishaq per la loro idolatria eppure Rifkah non ha chiesto di scacciare Ishaq sarebbe stato logica conseguenza pensando a cosa era successo con Ishmael avendo visto che poi di fatto la discendenza continua attraverso Iacov attraverso tutti i figli di Iacov che sono tutti giusti sarebbe stato normale dire piglia sto Ishaq e spostalo perché qui non deve avere a che fare no non lo chiede e anzi addirittura arriviamo a vedere che la Torah non parla mai male di Ishaq tutte le cose che noi sappiamo della sua malvagità non ci vengono dalla Torah scritta ci vengono dai commentatori ci vengono dai Midrashim ma non dalla Torah quindi c'è un trattamento particolare per questo malvagio che è Ishaq e a confondere le acque ancora di più vediamo che Ishaq al contrario di Ishmael non si è mai pentito fino alla fine della sua vita Ishmael si è pentito e Ishaq no quindi cosa succede qui chi è il vero malvagio chi è il nemico chi è il vero nemico come dobbiamo porci davanti a questi due tipi di nemici e soprattutto qual è il nemico dentro di noi che è sempre pronto ad attaccarci e che scopo ha veramente visto che Hashem tutto quello che ha creato l'ha creato per il bene può arrivare a dire che anche questo nemico l'ha creato per il bene ora per quanto la discendenza di Essav quella che noi chiamiamo Edom quella che è stata a Roma non abbia niente a che fare con il popolo ebraico sono Goin non sono ebrei e sia quella questa discendenza che ci ha procurato guai e sofferenza a non finire a partire già allora dalla distruzione del secondo tempio ad opera dei romani che hanno quindi dei discendenti di Essav che hanno compiuto atrocità a quel tempo non c'erano ancora i social media per far vedere a tutto il mondo le atrocità compiute contro gli ebrei ma non sono stati certamente da meno e nonostante tutto questo dobbiamo arrivare a dire che Essav stesso lui di per sé è ebreo sorpresa cioè non solo è figlio della prima coppia che si è sposata in quanto proprio ebrei dall'inizio Avram è vero che era il primo ebreo ma ha dovuto passare tutto un percorso così Sarai è passato da Avram a Avraham da Sarai a Sarai ha dovuto passare la circoncisione da lui poi è venuto gli è stato promesso il tutto ma Ischak dall'inizio Rifka è stata presa come Sadeket come giusta è tirata fuori dalle spine dove si trovava e da lì è venuto fuori sono venuti fuori due figli Iacov e Essav quindi Essav è ebreo è dei nostri wow la sua definizione precisa però è ebreo mumar vuol dire appostata ebreo che si è andato verso la Vodazara ma il suo destino futuro è di tornare fra le nostre schiere alla triata mi team ci sarà anche lui gli direi ciao perché allora tutto questo pasticcio nel mezzo se all'inizio era comunque ebreo e alla fine è destinato cosa ci fa in mezzo a procurare tutti i disastri che ha procurato qual è la funzione di Essav torniamo un po' all'inizio alla prima e forse unica gravidanza anzi senza forse che la Torah racconta nei particolari in genere è nato è morto nessuno è stato mai a parlare troppo delle gravidanze quindi cominciamo a sentire di come Rifka diceva ma cosa succede cosa combina sto figlio dentro che si agita e noi sappiamo che si trattava di quando me l'immagino mi viene anche da ridere di Jacobi e Essav che già dentro il grembo materno faceva una botta e litigavano per il per il mondo futuro e tutti sanno la storia del della mamma che quando passava vicino al Betamidrash Iacov faceva di tutto e si sbracciava per cercare di uscire quando passava vicino al luogo dell'idolatria della Vodasera era la volta di Essav di darsi da fare e scalciare e qui si comincia a porsi una domanda cosa vuol dire che già quando sono un bambino già quando è nel grembo della madre è già destinato a essere malvagio o giusto no il Ramban dice di no in quanto ad ogni ebreo è data la libera scelta di volgersi verso il bene o verso il male oltre a ciò se veramente solo questa fosse stata la natura Essav sarebbe già dall'inizio stato quello che è diventato invece la storia ci racconta che quando ha cominciato a volgersi verso il Tarbutarà verso la cattiva strada solo 15 anni prima era un bravo bambino educato da Avram Avino che ha studiato con suo nonno Avram insieme a Iacov quindi cosa cosa succede cosa è successo allora intanto noi dobbiamo ricordarci lo ricorderemo anche dopo che ognuno di noi ha dentro Iacov e Essav fanno parte di noi sono parte di noi quindi quando guardiamo ad ognuno di noi vediamo che ognuno di noi nasce con una natura diversa dall'altro una persona può essere calma tranquilla l'altra impetuosa proprio in base alla propria natura quindi si nasce in effetti con una certa natura cosa vuol dire che allora questo è il destino della persona Zeu così nasce così avanti è tutto già predestinato oppure la domanda è cosa dobbiamo fare della nostra natura invece ma prima di arrivare a rispondere a queste domande partiamo un attimo da un altro punto noi sappiamo che il nostro servizio divino si divide in due direzioni entrambi essenziali che sono i precetti che Dio ci ha dato che sono i precetti positivi e i precetti negativi quello che dobbiamo fare è quello che non dobbiamo fare ora siamo portati l'abitudine più a mettere l'accento sui precetti positivi anche perché li vediamo cioè c'è un bel risultato abbiamo fatto una cosa e ricordo ancora ho ricordato a Orle la soddisfazione che mi dà ogni volta che come ho raccontato in passato vado a fare qualcosa che ognuno deve fare più o meno un'altra settimana che tagliarsi le unghie per l'onore dello Shabbat e vado davanti al mio bigliettino dove ho disegnato due manine e l'ordine specifico con le quali si taglia le unghie e devo confessare il piacere che provo ogni volta semplicemente nel fare la volontà di Dio anche in queste cose piccole soprattutto quando mi è costata un po' di fatica perché l'ho sempre pensata come una cosa vabbè cercherò di capirci un giorno ma non è così grave non sono mai stata abituata da piccola non so come si fa eccetera non ho superato questa forza di gravità che il nostro Yézer utilizza adesso c'è anche la soddisfazione ecco faccio una cosa una cosa buona che Hashem vuole io la faccio e c'è proprio il piacere quindi siamo portati a vedere a dare più importanza ai propri percetti positivi perché sono quelli sui quali immaginiamo di più riconoscimento ricompensa eccetera e immaginiamocelo tutto questo con un esempio l'esempio di uno scolaro che va fiero dalla maestra a farle vedere ecco i compiti che ho fatto ho un'operazione che sono riuscito a risolvere è sicuro che la maestra dico magari non sempre gli farà gli dirà chi sa cosa ma senz'altro c'è la contentezza sì e spesso volentieri anche proprio l'elogio il premio eccetera più difficile immaginare uno scolaro che corre dalla maestra per dirle tutto contento amorà amorà oggi nell'intervallo non ho picchiato nessuno non è la cosa che più normalmente ci aspetteremo e non ci aspetteremo neanche che la mia maestra dice wow che bravo eh per cui meno è l'accento che noi mettiamo sulle cose che non dobbiamo fare eppure molte volte trattenersi dal fare qualcosa che la nostra natura ci spinge a fare è molto più difficile ci richiede uno sforzo molto più grande di fare qualcosa in positivo perché allora c'è chi nasce con una natura che lo porta così facilmente a peccare con tanta forza diremmo come uso dire qui the law fair non è non è giusto non sembrerebbe giusto visto che poi anche le volte che la persona che ha un temperamento che lo tira molto con le sue passioni verso le direzioni non delle migliori anche le volte che riesce a controllare queste pulsioni per lo più non riceve non riceve neanche un riconoscimento per questo anzi è molto facile più facile vedere sentire genitori o insegnanti che si esprimono nei riguardi del famoso bambino problematico nei termini di è fatto così non c'è niente da fare caso perduto è qui che noi dobbiamo scoprire che proprio i precetti negativi sono quelli in grado di portare qui nel mondo una luce molto più grande di quelli positivi una luce che ha un'origine molto più elevata come noi sappiamo che Sav viene da un'origine molto spirituale molto molto più elevata di quella di Ako per un carattere tranquillo per una natura che tende alla concentrazione allo studio non è un grande problema compiere i precetti quotidiani le benedizioni sui cibi le preghiere lo studio della Torah eccetera tutte cose che hanno il potere finché se di attrarre santità nel mondo ma ad un livello di luci più contenute un carattere impetuoso invece dovrà affrontare continuamente una forte opposizione che nasce in lui proprio per il suo temperamento perché Dio lo ha messo in una tale condizione di svantaggio poraccio uno si è portato a dire perché la persona vale meno perché è più debole perché è destinata a fallire e no scopriamo qualcosa di nuovo qui tutto il contrario è perché Dio lo considera più capace di altri di affrontare il nemico interiore che si leva in lui con tanta forza perché proprio lui può avere la forza di attrarre nel mondo luci di una santità elevatissima e questo doveva essere in origine il compito di Esav e Itzhak lo vide sapeva questo e sperò che dando le sue benedizioni queste benedizioni dessero la forza a Esav di portare evidente avanti il suo compito Rivka piedi più per terra si rese conto invece che nonostante il potenziale di Esav elevatissimo non sarebbe per ora riuscito a attuarlo questo potenziale nel mondo per questo fece sì che Iacov ricevesse le benedizioni di Esav e anche il compito di Esav noi dobbiamo comprendere che ognuno come abbiamo detto ha in sé anche Iacov e anche Esav e che questo nemico che abbiamo dentro il nostro Esav con il quale dobbiamo fare i conti di fatto ha il potenziale di farci raggiungere i livelli più elevati quindi cominciamo già a porci diversamente nella nostra guerra col nemico interiore nostro per questo però dobbiamo imparare a riconoscerlo e a trattarlo con intelligenza a saper scoprire sempre in lui la scintilla divina elevata e positiva a credere in essa come abbiamo detto l'altra settimana quanto Yitzhak ha creduto in Esav ha creduto in suo figlio Elifaz e quanto questo credere ha fatto rivelare anche in Elifaz questo bene contenuto e quindi a credere in esse a farle trovare e a farle trovare la strada per rivelarsi per esprimersi a trovare la strada e uscire fuori ora uno degli ostacoli per noi in questa direzione in questo lavoro può essere lo stesso che incontrò all'inizio Yitzhak perché Yitzhak si spaventò tanto quando aveva quando sentiva questo agitarsi dentro di sé di quello che stava succedendo dentro cos'è non poteva immaginare che ci sono persone appunto che nascono con caratteri diversi e che quindi da ridire tendono a cose diverse il fatto è che Rifka per un attimo aveva pensato che dentro di lei ci fosse un bambino solo con due tendenze opposte cosa che in effetti è preoccupante no? infatti ha dovuto andare a farsi rivelare da Kadosh Borku per mezzo di Ever il fatto che dentro di lei c'erano due destinati a diventare due nazioni e con tutte le spiegazioni di che cosa di come si sarebbero comportati in futuro ora questo è un qualcosa che a mio avviso succede tantissimo anche dentro di noi e addirittura anche dopo che studiamo il libro del Tania anche dopo che siamo consapevoli del fatto che dentro di noi si muovono e agiscono due personalità completamente diverse due anime diverse una divina e un animale la nostra tendenza nel quotidiano è di sentirsi che io sono io una persona con l'istinto del bene l'istinto del male che mi parlano all'orecchio mi tirano fuori scema e che sono una personalità spezzata in due cosa che veramente quelle sono da cura psichiatrica cioè chi è in queste condizioni è in un bel problema ma noi non siamo in questa condizione solo che non ce ne rendiamo spesso conto ma quando ce ne dimentichiamo qual è il risultato in genere è una grandissima frustrazione perché anzi più studiamo più capiamo che cosa è giusto fare più capiamo qual è la volontà di Dio e come ci dobbiamo muovere non tanto lo capiamo ma ci entusiasmiamo ci crediamo lo vogliamo eccetera e poi ci troviamo a fare il contrario è estremamente frustrante ma perché ho capito e mi vedo fare l'opposto ma quando mi ricordo che ci sono due qui comincerò forse a comportarmi diversamente verso con questa consapevolezza verso le forze che si muovono dentro di me quindi in noi c'è Iacov in noi c'è Esav due personalità diverse due anime per unire queste due forze in un solo intento comune perché questo è quello che alla fine dovremmo fare e sfruttare al meglio le caratteristiche di entrambe quindi anche quella di Esav con tutta sul suo temperamento tempestoso devo prima di tutto essere consapevole della loro esistenza e allora quando spunterà fuori Esav saprò meglio come pormi e non certo come il maestro o il genitore che considera perduto e incorreggibile il bambino problematico ma come chi riconosce in esso una grande forza e un grande potenziale questo non vuol dire lasciar via libero ogni comportamento ma dirottare quelle forze e arruolarle per il bene comune che anche Esav alla fine sarà in grado di riconoscere perché anche Esav alla fine della Geulà capirà e sarà con noi e qui arrivo a una esperienza personale e una direzione personale di lavoro o quantomeno di tendenza che che vedo come importante perché una delle prime armi da smantellare in questa nostra guerra contro il nemico guerra che deve essere molto intelligente perché quando riconosciamo il nemico sappiamo che Esav è fatto anche lui di una parte che non può essere corretta che può essere solo distrutta come è di una parte invece che è estremamente elevata e cosa è successo nella sua vita di fatto la cosa più assurda incredibile fra le storie che lasciano colpiscono sempre molti la sua origine la sua testa dov'è? è sepolta insieme a Yitzhak ma solo la testa il resto no la storia non la sto qui a ripetere ma è una conseguenza del fatto che in futuro è fino adesso non è stato possibile il Rebbe addirittura dice che adesso già siamo sia arrivati al Tikkun alla riparazione di Esav ma fino a un certo punto era impossibile per cui il potenziale c'è il potenziale si rivelerà ed è insieme a Yitzhak il bene l'origine elevatissima ma l'attuale non è riuscito a entrare qui in questo mondo a realizzare il suo compito però appunto noi abbiamo adesso il dovere di continuo a pensare di arruolare invece queste forze incredibili di Esav e adesso siamo molto più vicini quando il Rebbe si è espresso nella famosa Sikha in cui dice io tutto quello che dovevo potevo fare ho fatto adesso passo la palla a voi tocca a voi e diceva di fare questo lavoro per portare alla redenzione qui di fatto come rot de tou luci di tou dentro recipienti di Tikkun è proprio questo il lavoro doveva fare Esav e che alla fine completeremo adesso di prendere le luci incredibili quelle di un'origine così elevata che aveva dalle quali proviene Esav di poterle contenere qui in questo mondo del Tikkun in questo mondo riparato di essere noi stessi il mondo recipiente capace di ricevere e contenere tali luci infinite ora però nel corso di questa guerra che ancora noi stiamo portando avanti e più consapevolezza più luce ci mettiamo più la sappiamo condurre nel modo più intelligente una delle armi che io considero fra quelle più pericolose distruttive che vengono usate in questa guerra e non vengono usate contro il nemico ma vengono usate a favore del nemico è quella della critica non so cosa risuona in voi cosa fa risuonare in voi per me è un veleno che io bevo tutti i giorni e che mi dico che devo smettere di bere perché è un è un qualcosa un nemico che ha la capacità di invadere il campo in modo completo di anche travestirsi di giustificarsi perché quando vedi una cosa che non va e signori non è che quella cosa lì non va non va e io la vedo faccio finta che non la vedo e mi disturba e mi dà fastidio quella cosa che tizio ha fatto quello addirittura anche cose che non ha fatto a me ma quando vedo quel padre con la madre come hanno risposto al figlio e che non si rendono conto e guarda il bambino ecco non avrebbe dovuto fare così cosa faccio adesso glielo vado a dire ma come lo prendono se glielo dico e vado e vado e vado avanti 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 per non parlare quando si trassa qualcosa che fanno nei miei confronti e comincio a pensare e questa cosa si espande dentro di me e prende tutte le mie energie mi trovo che vado avanti come un macinino che va avanti 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 pensa 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 e quando smette di criticare all'esterno è la volta torì come si dice turno mio e comincio a criticare me stesso e e lì quanto ne ho soprattutto quando penso di essere una persona sola come abbiamo detto prima che ha capito come si fa e non lo fa quindi autocritica e devo fare l'autocritica quindi non vado bene non so che faccia fare niente guarda e qui e lì che non finisce più e il cervello rimugina continuamente e il risultato qual è? tutti fermi tutti depressi tutti sconfitti il colmo arriva poi e questo mi sconvolge ultimamente mi ha sconvolto perché mi sono colta nello stesso momento quando consapevole di quanto criticare non mi porti a niente di bene quanto sia distruttivo velenoso criticare nel tentativo di spostare questa mia tendenza cosa faccio? inizio a criticare la mia tendenza e continuo a criticare e zero così il cerchio si chiude o meglio mi chiude dentro è qualcosa che non ti lascia respirare non so magari non tutti sono ognuno ha i suoi punti deboli diciamo che questo è il mio punto debole perché vedo tanta importanza proprio adesso nel parlarne l'importanza è che la critica ma anche quella su me stessa ma comunque la critica è quella che porta in generale alla massima divisione fra di noi e quanto siamo consapevoli finalmente che l'unione adesso fra di noi è essenziale e rinunciare a questa unione anche due minuti è pericoloso è pericoloso e noi dobbiamo fare tutto proprio giocare tutte le nostre carte spendere tutti i nostri tesori come il re spendere tutto il suo tesoro armare l'esercito quando qualcosa è importante così noi dobbiamo evitare qualsiasi cosa che ci porta alla divisione quindi la critica ha voglia che ci divide e prima di imparare a usare la critica in modo costruttivo come noi ci raccontiamo noi stessi va fatto un lavoro interiore di smanzellamento di ricostruzione che non ci illudiamo di essere tanto capaci di usare la critica in modo costruttivo esiste anche anche la Torah ma in genere è molto lontana per noi dal sapere come usarla per cui intanto il primo passo sarebbe quello di cucirsi la bocca la mente e di smettere di criticare però se lo sforzo nostro davanti alla forza che oppone il nemico è quello di opporli una forza contraria si hanno dei risultati con il lavoro di tcafia mi viene molto da dire a tizio e caio cosa hai fatto qui e lì come il bambino all'intervallo della scuola che si trattiene e non picchia ed è un grande lavoro quello che si chiama di tcafia mi trattengo è un grande lavoro però non posso accontentarmi di quel lavoro perché se il mio lavoro è solo e continuo di tcafia non come nelle arti marziali le afdil per fare grande differenza una delle cose che viene insegnata è di utilizzare la forza del nemico se io solo mi oppongo forza a forza restiamo lì ogni tanto vinci tu ogni tanto vinco io ma se io voglio arruolare il nemico devo conquistare le sue forze fare in modo che le sue forze lavorino per la direzione giusta quindi è un tipo di lavoro diverso è un tipo di lavoro che spesso noi diciamo invece di combattere abbastonate contro il buio e il male accendiamo la luce ho avuto un'esperienza che veramente mi ha strabiliato da quanto delle cose che sembrano impossibili quando becchi il momento e l'idea giusta non che adesso la beccherò tutti i giorni è stato quel momento però tutto un tratto vedi ma quanto è ovvio facile quanto è praticabile qual è stata l'esperienza vabbè in questi giorni non voglio giustificarmi ma il fatto di non sentirmi bene purtroppo ancora ma siamo sulla via della guarigione assolutamente oggi in particolare questi meccanismi non troppo positivi lavorano più a ruota libera e mi sono ritrovata addirittura davanti a un'occasione che doveva essere proprio nutritiva per lo spirito qui ho cominciato a vedere un melave malka dei shluchim del rebbe che adesso sono che erano nel convegno annuale degli shluchim c'era una serata organizzata di melave malka dove c'erano vari interventi persone che parlavano e musica danza eccetera eccetera e a un certo punto ho cominciato e guardavo e avevo da ridire su tutto ma non c'era cosa sulla quale non avevo da ridire ma no c'è manca la vitalità e qui questo perché quello non parla sempre davanti al microfono e si gira poi non si sente niente cioè era una cosa assurda e non riuscivo a fermarla andava avanti andava avanti andava avanti tanto che mi ha fatto ricordare alava shalom che vogliamo vederlo ritornare subito 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 Rav Rodal e quando i primi passi del mio processo di chuvà mi aveva invitato al matrimonio di una sua figlia penso e io mi giravo intorno e avevo delle visioni di come dove essere un matrimonio rassidico e non mi sembrava proprio che dove essere così e avevo sempre questa faccia di quella che trova in tutto qualcosa che non va e non è come le aspettative cioè le aspettative sono la cosa più terrificante che noi alla quale noi ci condanniamo anche perché sono aspettative poi in genere le più sbagliate ok Rav Rodal ha notato la mia faccia non tutta contenta mi chiede cos'ha e io assurdamente stupendo ho cominciato a criticare un po' di cose mi ha cioè non mi poteva prendere per il bavero ma spiritualmente mi ha dato uno scrollone e mi ha urlato davanti qualcosa come libera la mente e lascia entrare la luce qualcosa di questo tipo è stato proprio uno schiaffone che mi ha dato e lo ringrazio e lo ringrazierò sempre per questo schiaffone a quel punto allora ricordandomi anche questo e davanti allo schermo dico un momento mettiamo la luce allora perché invece di continuare a dire quello qui e quello lì facciamo la lista delle cose belle e all'inizio quando fai le cose perché devi farle ma non perché le senti le vedi veramente fai una lista neutra dove non senti non hai ancora un sentimento e dici sì sono tutti uniti sì fanno questo cioè cominciare a vedere su questa onda poi mi sono avvicinata ho cominciato a guardare e si è aperto tutto cos'è che si è aperto tutto si è aperto che tutto è entrato ho visto Rami Banin di Venezia che ballava in mezzo alla folla ho potuto riconoscerlo cosa che mi ha riempito di gioia perché come spesso ho detto sono molto mi sento molto vicina agli emissari di Venezia tutta l'atmosfera che che hanno saputo creare tutto il 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 contatto umano che sanno creare con ogni ebreo che passa di là per cui già questo dopodiché ho visto tutto un tratto fra quelli che ballavano effettivamente non tutti con un grande vigore ho visto invece uno un personaggio che adesso è stato intervistato più volte che fa parte delle qualche modo dell'esercito vicino a Chabad che ha rivelato delle cose che ha dato un sacco di forza un personaggio con una grande forza estremamente positiva estremamente interessante che è stato invitato lì a parlare e l'ho visto come prendeva per mano le persone le faceva saltare quindi a un certo punto ho cominciato a vedere punti di luce dappertutto e sentire entrare questa luce dentro di me e vedermi spostare da una visione del tutto critica a quando cominci a elencare il positivo ecco che ti arriva da solo non devi neanche più cercarlo ti arrivano i regali ti arriva tutta la luce che Dio è lì che costantemente è lì che ti dice ragazzi popolo mio sono qui che vi voglio dare così tanto bene vi voglio dare la redenzione vi voglio dare me che arrivo lì in modo sono già lì ma che tutti mi potete vedere e che ci sentiamo insieme con amore e tutto toglieteli i sbarramenti toglieteli toglieteli come ravro volate lo scossone aprite lasciate entrare la luce per cui la mia proposta è quella di lavorare sulla tendenza alla critica che penso non tocchi solo me e a qualsiasi altra cosa vedere che aggiungendo luce si risolvono le cose veramente si apre la strada vedo che stai facendo ecco lo vediamo lo facciamo e di saper prendere con molta intelligenza il nostro SAV e di tirare fuori le luci più grandi che abbiamo in noi che abbiamo nascosto in noi con un lavoro che ci vede uniti l'uno all'altro con amore vero e lasciando tutte le altre cose finalmente fuori non so quanto sono uscita mi auguro mi auguro e dai vi saluto tutte quanto riguarda quanto viene a registrazione per vederci nella prossima vicino ai miracoli anzi che nella prossima ci racconteremo l'un l'altro agli enormi miracoli che avremo visto in questi prossimi giorni